Io scendo in piazza, questa la manifestazione che si è tenuta questa sera in Piazza della Rinascita a Pescara. Tutte le organizzazioni di categoria dei commercianti, degli esercenti, ma soprattutto dei titolari gestori di ristoranti, pizzerie, bar, che con il nuovo DPCM sono costretti da qualche giorno a chiudere alle 18. Hanno partecipato a questo sit-in con delle fiaccole accese per manifestare il malcontento proprio per il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono stati fissati alcuni punti che verranno girati proprio al governo. Non è mancata l'attenzione per una contestazione al termine della manifestazione verso il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Vediamo. Le nostre categorie sono le più colpite da questa crisi da coronavirus. Sull'ultimo DPCM non abbiamo ben compreso alcune norme, tipo la chiusura alle 18. È evidente che molti operatori si chiedono perché dobbiamo chiudere alle 18. In fondo un'attività che fa rispettare le regole, che in qualche modo deve vivere di entrate e uscite, di un equilibrio molto delicato che hanno le aziende, hanno le attività produttive. È evidente che se non si dà la possibilità di incassare fino in fondo, poi i conti non ridanno. Chiudere le attività del ristoro, e quando parlo di ristoro ci sta una filiera dietro al ristoro, ristorante, pizzerie, gelaterie, bar, caffè, bistro, eccetera, che praticamente li mette in ginocchio. Cioè chiudere alle 18. Era meglio forse chiudere tutta la giornata. I ristori che arrivano subito, da dopodomani, i conti correnti di queste imprese, di noi imprenditori, arrivino questi bonus. Ci sono stati degli errori? Secondo me sì. Sì, nella fase della tracciabilità, noi quest'estate abbiamo tracciato tutto. Questo tracciamento deve essere un investimento, invece siamo accorti che purtroppo c'è stata una distrazione nel commentare i tracciamenti. Non siamo né medici né virologi, siamo soltanto i titolari di imprese che la mattina dobbiamo alzare la sanità di Cinesca, a fine mese dobbiamo pagare gli affitti e forse abbiamo anche qualche effetto che dobbiamo pagare perché le forniture le abbiamo prese tre mesi fa. Io mi auguro che se le tensioni si abbassino perché se si aumentano le tensioni si rischia veramente di entrare nel disagio sociale e diventa poi difficile gestire le persone che sono in un momento di disagio sia morale che sociale.